Buongiorno e benvenuti a tutti, io sono Giorgio e oggi impareremo ad utilizzare e gestire gli oggetti multiparte in Prusa Slicer. Partiamo inserendo il nostro oggetto. In questo caso, come esempio, io ho scaricato un file da Fingiverse composto da più parti, ma vediamo che all'interno della cartella troviamo anche il file denominato all. Se lo apriamo, possiamo notare che questo file non è un oggetto multiparte, in quanto è composto solo da un unico oggetto. Questo perché all'interno del file il creatore del modello ha messo sia l'oggetto diviso in varie parti per stamparle in colori diversi, ma ha messo anche l'oggetto finale già pronto per essere stampato. Vado a posizionarlo sul piano e vi faccio vedere le prime due funzioni. Qui in alto abbiamo la funzione dividi in oggetti o dividi in parti. Già dal nome possiamo capire, intuire quale sarà la funzione. Dividi in oggetti dividerà il nostro file in tanti oggetti diversi, l'uno separato dall'altro. Ogni oggetto indipendente. Adesso invece utilizziamo il comando dividi in parti. Dividi in parti, a differenza del comando dividi in oggetti, non ha creato tanti corpi separati fra loro, ma ha creato un gruppo al cui interno troviamo tutte le parti del nostro oggetto. Ok? Le parti che troviamo qui sono le stesse che sono state create prima con la divisione oggetti. In questo caso gli algoritmi di PrusaSlicer vanno a individuare ogni corpo non connesso agli altri come un corpo a sé stante. In questo caso vediamo che ogni minima parte è stata suddivisa. Avendolo diviso in parti, vediamo che possiamo stampare il nostro oggetto utilizzando dei modificatori per ogni parte, ma il nostro oggetto è rimasto composto come era inizialmente. Mentre dividendolo in oggetti, ogni oggetto viene staccato dal modello e quindi dovrà essere stampato da solo. Questo non è detto, ma io vi sfido a prendere tutti gli oggetti e a ricomporre perfettamente l'oggetto di partenza. In questo caso però vediamo che la funzione divide in parti non ha un'utilità vera e propria, se non che ad esempio stampare, vediamo, cerchiamo la maglietta, la vogliamo stampare ad esempio utilizzando un modificatore del riempimento o dei perimetri. L'utilità vera e propria di questo comando l'abbiamo però quando utilizziamo una stampante con doppio estrusore. In questo caso il profilo che sto utilizzando è il profilo di una stampante con un solo estrusore. Questo lo possiamo vedere recandoci nella scheda impostazioni stampante, su generale, estrusori, vediamo un solo estrusore. Selezionando però il profilo ad esempio della Creality CR10 che in questo caso io ho modificato, sempre andando nella scheda stampante possiamo vedere che ho impostato due estrusori. In questo caso abbiamo due estrusori quindi potenzialmente possiamo stampare o due materiali o due colori diversi. In sostanza due filamenti differenti. E vediamo che nella nostra scheda delle parti è comparsa una nuova colonna chiamata estrusore. Allora in questa colonna noi possiamo andare a dire allo slicer con che estrusore, quindi con che coloro, con che tipo di filamento vogliamo stampare ogni parte del modello. Quindi andando a selezionare ad esempio 2, abbiamo detto di stampare con l'estrusore numero 2 questi oggetti. Andiamo a provare a fare lo slice. E anche dall'anteprima di stampa possiamo proprio vedere che il nostro oggetto sarà stampato tutto con l'estrusore 1 tranne nei punti in rosso dove verrà utilizzato l'estrusore numero 2. Quindi abbiamo già capito come si fanno le stampe multicolore, molto semplicemente impostando così. Ovviamente dobbiamo avere una stampante multiestrusora. Con una stampante e un estrusore questa procedura potrebbe essere utile ad esempio per stampare con un infil diverso alcune parti. Ad esempio appunto come dicevamo prima la maglietta che è una parte abbastanza grossa dell'oggetto, possiamo andare a impostare un riempimento differente. Quindi ad esempio impostiamo per l'oggetto il 100% del riempimento, mentre per il riempimento della maglietta utilizziamo solo il 5%. Proviamo a fare lo slice. Spostandoci al centro vediamo proprio che il nostro oggetto viene riempito completamente in tutte le altre parti tranne nella parte della maglietta dove noi abbiamo impostato il 5% del riempimento. Questa cosa ci può aiutare a risparmiare un sacco di filamento e di tempo. Questo è solo un esempio di quello che si può ottenere utilizzando la divisione per parti. Adesso invece andiamo a vedere l'operazione inversa di quella che abbiamo appena fatto, ovvero non importiamo l'oggetto già completo, ma importiamo le altre parti che sono presenti all'interno della cartella che ho scaricato da Thingiverse. Ad esempio importo la prima, la prendo dal trascino e vediamo che questo oggetto è formato da questi corpi. Adesso andiamo a caricare a questo oggetto le altre parti. Selezioniamo l'oggetto modifica e andiamo a dirgli aggiungi parte, carica e selezioniamo tutte le altre parti tranne ovviamente quella che abbiamo già caricato e tranne quella già completa. Apri. Automaticamente lo slicer riconosce quali parti combaciano con le altre quindi il nostro oggetto viene ricreato sempre come un oggetto unico composto da più parti. E a questo punto vediamo che vale lo stesso discorso di prima, quindi potremmo andare a impostare o un estrusore diverso o un'impostazione diversa per le varie parti. È solo una via alternativa per ottenere lo stesso risultato. Dato che mi è capitato sott'occhio vorrei farvi vedere anche come Prusa gestisce gli errori degli oggetti. In questo caso vediamo che in parte al nostro oggetto esce un triangolino arancio in cui passando sopra con la freccia del mouse ci viene detto autoriparati 60 errori. Clicca adesso sull'icona per riparare il file STL tramite Netfab. In questo caso vuol dire che questo componente del nostro oggetto presenta degli errori. Prusa slicer in automatico li ha già corretti. Infatti vediamo che come abbiamo visto anche prima facendo lo slicing non abbiamo nessun tipo di artefatto, nessun tipo di errora. Proprio perché vengono riparati in automatico. Ma nel caso di oggetti più complicati o più corposi può darsi che Prusa slicer non riesca in autonomia a riparare tutti gli errori. Per questo cliccando sul triangolino Prusa slicer esporterà l'oggetto tramite Netfab e lo riparerà. E ci viene detto modello riparato con successo. In questo caso comunque l'oggetto era già stato riparato internamente a Prusa slicer ma in questo modo eliminiamo completamente l'errore. Se il video vi è stato utile e vi è piaciuto mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao e alla prossima!